Previsioni meteo per mercoledì 22 novembre. Al nord cieli nuvolosi sulle aree pianeggianti e sul friuli con locali nebbie e qualche debole pioggia sparsa, in particolare sulla Liguria e sul sud-est Piemonte, sole prevalente altrove. Al centro più nubie e qualche pioggia sulla Toscana, sull'Umbria e sul nord Lazio, ampio soleggiamento altrove. Al sud tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche nube sparsa su campania e basso tirreno in mare. Venti deboli da est-sud-est, mari quasi calmi o poco mossi, temperature stazionarie.